Sarà il segretario generale della CGL Maurizio Landini nel suo primo intervento ufficiale in provincia di Lucca a chiudere i lavori del convegno organizzato dal sindacato in occasione del cinquantesimo anniversario dell'omicidio di Vasco Zappelli. L'appuntamento è per martedì 21 settembre alle 9.30 nell'area Medicea di Seravezza e ci sarà tutto lo Stato Maggiore della CGL e il Presidente della Regione Eugenio Gianni. Proprio a Seravezza nell'ottobre del 71 il sindacalista Viareggino Zappelli, segretario della Fillea del Marmo, venne ucciso nel corso di una rapina in una banca che riuscì a sventare scagliandosi contro i banditi gridando andate a lavorare vigliacchi. Un gesto che rivolse la medaglia d'oro al valore civile alla memoria e dai principi che difendeva Zappelli riparte oggi la CGL in un momento storico post pandemico di grave crisi del lavoro. Ricordiamo l'occasione di fare questa celebrazione ma allo stesso tempo faremo anche una discussione sul mondo del lavoro oggi, su tutte le problematiche che si porta dietro e sulla necessità, questo ci tengo a dirlo, che la politica, quella politica verso la quale non siamo indifferenti, rispetti e ascolti più e si confronti più con il mondo del lavoro, con il sindacato e con i lavoratori. Nell'anno 2020 del blocco di licenziamenti il prezzo più grosso come sempre hanno pagato i lavoratori le fasce più deboli. Abbiamo perso in Italia da 280 mila posti di lavoro. Il lavoro che si sta ricreando piano piano in questo momento è ancora più caratterizzato da precarietà e da sfruttamento per cui le condizioni lavoratori sono anche peggiorate. La CGL di Lucca torna a schierarsi a favore dei vaccini e anche dell'obbligo di Green Pass per i lavoratori introdotto dal governo a partire dal 15 ottobre. Difficile però al momento capire sul territorio provinciale quanti lavoratori siano sprovvisti del certificato. Noi stiamo, come si dice, facendo appello a tutti di vaccinarsi. Chiaramente può darsi che ci siano delle situazioni che diventano anche tra virgolette aspinose. Però, ripeto, noi cercheremo di fare in modo e maniera che non ci siano discriminati.